Ciao e benvenuto nell'esclusivo manuale di istruzioni per il tuo gatto. Come già sai, nella confezione che hai appena acquistato, puoi trovare un gatto random dall'aria furtiva e questo manuale in un pratico CD. Prima di procedere all'uso però, ricordati di non gettare la scatola, più avanti ne avrai bisogno. Piuttosto, parliamo del tuo nuovo gatto. Devi sapere che i gatti sono degli ottimi strumenti di conversione. Sono in grado di trasformare delle semplici scatolette per gatti in ottimo materiale per la consumazione. L'espulsione deve avvenire nel dispositivo di archiviazione feci e soprattutto attento a non rimuovere il dispositivo quando ancora in uso, altrimenti ti ritroverai la casa invasa da escrementi felini colorati e sorridenti. Se il tuo gatto dovesse rifiutare le scatolette, non temere, potrai tranquillamente sostituirle con la bistecca che avrei pensato di cucinare per cena. Quello che molti non sanno è che il gatto è un animale touch. Di fatti, agendo direttamente sulle parti sensibili, potrai ottenere fantastici risultati in termini di morsi e squarci sulla pelle. Ricorda anche che, con un po' di esperienza, imparerai delle combo che ti permetteranno di sbloccare contenuti speciali, tra cui Fare la pasta Il gatto inizierà a muovere le zampette ritmicamente e se riuscirai a posizionarlo correttamente sopra il tuo impasto di farina, potrai ottenere degli ottimi tortellini ripieni. Fare le fusa L'animale emetterà dei suoni rilassanti facilmente riconducibili alle vibrazioni di un cellulare o di un joypad. Farti inciampare, l'affetto incondizionato del tuo gatto nei confronti del cibo che stai tenendo in mano, ti sarà utile per poter osservare il pavimento più da vicino. Oltre alle fantastiche funzionalità che vi abbiamo elencato finora, si deve tenere in considerazione anche i possibili impieghi del tuo animale nel campo dell'intrattenimento. Non solo potrai divertirti guardandolo combattere contro la sua immagine riflessa, ma potrai anche soggiocare la sua mente grazie a gomitoli di lana e soprattutto al famigerato pallino rosso dalla provenienza ancora sconosciuta. Non ti piacerebbe poter godere di tutte queste possibilità ovunque tu sia? Non c'è alcun problema, il gatto, difatti, è un animale portatile, grazie alla sua incredibile capacità di infilarsi volontariamente all'interno di buste, borse o scatole. E a proposito di questo, stai attento a non lasciare scatole delle scarpe in giro, ma ricorda sempre che per qualsiasi spostamento ti basterà inserire il gatto nella tua 24 ore. Non hai mai sentito il bisogno di alleggerire la tua mole di lavoro? Ci pensa il tuo gatto, che tu sia uno studente o un lavoratore, poco importa, lui sarà più che lieto di utilizzare i tuoi strumenti per schiacciare un pisolino. E tu certamente non potresti mai svegliare una così piccola creatura per puro egoismo. In ultimo, la funzione che abbiamo implementato con la versione 2.0, Gift, ovvero regali. Grazie ad una semplice notifica da parte del tuo gatto, potrai facilmente dedurre l'arrivo del regalo, solitamente sopra il tappetino di ingresso. Palle di pelo di varie dimensioni è, per i più fortunati, l'esclusivo e ricercatissimo topo morto. Prima di concludere la guida, è molto probabile che il gatto fornito nella confezione possa appartenere al genere maschile o a quello femminile. Ci sentiamo quindi di fare una piccola raccomandazione. Nel caso in cui il gatto sia maschio, preparati durante la notte ad ascoltare tutto il tuo repertorio musicale dagli anni 80 ai giorni nostri dedicato alla gattina della casa accanto. Nel caso in cui il gatto sia femmina, potresti andare incontro, per ragioni che ancora non sono ben chiare alla scienza, a un'improvvisa moltiplicazione dell'animale in tanti piccoli cloni che ti daranno coccole, amore e tanta ma tanta cacca. Nel caso in cui il gatto sia sessuato, invece, non avrai alcun problema. Nella confezione non sono inclusi eventuali contraccettivi, vi è una buona possibilità che il gatto sia dotato di un apparato genitale e non ci assumiamo alcune responsabilità riguardo eventuali moltiplicazioni indesiderate. Grazie per aver deciso di acquistare il tuo nuovo gatto e buon divertimento!